Due assemblee a Scarperie e Barberino del Mugello per spiegare a chi ha subito i danni del terremoto che ha colpito il Mugello il 9 dicembre 2019 come accedere ai contributi messi a disposizione. A spiegarlo il presidente della regione toscana Enrico Rossi, commissario alla gestione del post-sisma. Sono 450 le unità immobiliari danneggiate per un totale di 144 edifici. I contributi per l'autonoma sistemazione di chi ha dovuto lasciare la casa vanno da 400 a 900 euro e ammonta a un massimo di 25 mila euro il contributo per il ripristino del patrimonio immobiliare, obiettivo rendere di nuovo agibili al più presto gli edifici. Abbiamo individuato intanto come prima fase l'avere per ogni unità immobiliare la perizia da parte di un architetto o di un ingegnere che ci dica all'incirca qual è la spesa necessaria. Una volta che avremo queste perizie potremo fare una valutazione più approfondita e capire anche come aiutare quelle situazioni un po' particolari che non sono contemplate nella ordinanza del presidente del consiglio. Arriva a un massimo di 1500 euro poi il contributo per il ripristino di beni mobili distrutti o danneggiati. Le domande dovranno essere presentate entro il 28 febbraio.